Cara Irma, anch'io mi sono affezionato a te, piano piano, però sinceramente non credevo di essere tanto innamorato da sentire così la tua mancanza. Cerca l'offerta di solo te stesso a me basta, anzi ti preciso che è quello che desidero, te con la tua testa, anche con i capelli dritti, con i tuoi pensieri, con i tuoi ideali, con le tue aspirazioni, con i tuoi pregi e anche con i tuoi difetti e soprattutto te, con il tuo cuore. Cara, mi vuoi proprio bene davvero? E questa mi avviso la prima regola di un vero amore, il volersi bene. Ebbene, io sento che te ne voglio tanto, ti penso sempre. Allora dovessimo decidere per il sì, se io lascerò tutto solo per te, avrò bisogno di te come dell'aria che respiro, della tua fiducia, della tua stima, dei tuoi sentimenti. Popolo del miele, perché non me la sono dimenticata questa frase. Le parole che avete visto e ascoltato sono tutte vere e sono la grande, immensa storia d'amore di una donna molto generosa che ha deciso di raccontare questa storia racchiudendola tutta in un libro fatto solo di lettere. Vi presento, piccina ma immensa, la signora Irma Spagnoletti Pons. Ben arrivata! insieme a sua figlia Angelica, grazie di essere con noi, e il suo Giulio, il suo Giulio a cui lei scriveva queste lettere e che le rispondeva scrivendo queste lettere che oggi non c'è più ma che le è sempre accanto. Mi sta sempre vicino e lo sento vicino, quando ho difficoltà, lo chiamo e lui mi aiuta. Senta signora, lei ha deciso, guardate io tocco questo come se toccassi un quadro di Caravaggio, un'opera d'arte, perché questa è l'opera dell'amore, ed è amore vero. Lei ha deciso, ritrovando tutte queste lettere, datate in che anno siamo? Nei anni 60? Da 64, fine 64, fino al 66 settembre. Settembre 29. Perché che succede? Settembre 29 del 66. Ci siamo sposati, bella come la luce! Ci siamo sposati! E lei ha deciso di prendere queste lettere, di raccoglierle e di farle diventare un patrimonio per tutti noi. perché chiunque voglia pensare a che cosa sia l'amore deve leggere questo libro. Infatti io avevo pensato di riordinare tante cose dopo che mi era mancato Giulio e ho ritrovato queste lettere che lui aveva messo in ordine con una precisione incredibile e poi ho pregato mia figlia e gli ho detto, senti, vedi un po' di leggerle, cosa posso fare? Lei purtroppo è impegnata con me con un altro tipo di lavoro, mi ha detto, mamma, guarda, mi dispiace, ma io non ho tempo, però mi ha aiutato a ricopiarle sul computer. No, non mi ha aiutato, lei ha imparato a usare il computer, signora. Sì, ma lei mi ha suggerito. E certo è sua figlia che arriviamo, eh Angeli. Ecco, e così ho cominciato a ricopiare queste lettere sul computer. Poi le guardavo, le rileggevo e ad un certo punto, siccome con il lavoro che facevo in precedenza, poi anche successivamente e anche forse mi sono lasciata coinvolgere anche della situazione sociale di oggi, mi dicevo, ma tante coppie, prima di tutto pochissimi si sposano. Quelli che convivono dopo un po' di tempo, anche se mettono al mondo bimbi, si separano. Questi bimbi che cominciano a vivere, non si capisce come, e stanno soffrendo in una maniera incredibile. Io ho sempre amato i bambini, mi sono dedicata loro per tutta la vita. Lei è stata insegnante. Sì, anche insegnante. E quindi questo pensiero mi faceva star male. Ne abbiamo parlato con il signor Patrizio Righiero, il quale ha letto queste lettere. E ha pensato di farle digitare. E mi ha detto, ma perché non scrivere un libro? Perché potrebbe anche essere di aiuto ai giovani di oggi. Si fermi lì, signor Irma Spagnoletti. Angelica, arrivo tra un attimo da lei. Noi ci fermiamo, ma dovete immaginare, il Molise, da che punto in giù è tutto Napoli? Dicevano. Di molti dicevano che era tutto Napoli. A parte che andava benissimo che fosse tutto Napoli, scusate parlo per tifo personale. Ma quella coppia in quegli anni, e questa è una situazione di fronte alla quale noi ci troviamo leggendo queste lettere, ha annientato, cancellato anche quel muro che si poteva alzare tra il sud e il nord del nostro paese. Come? Con un'arma che non ammette risposte. L'amore, e dove c'è l'amore, si vince. Ci arriviamo tra un attimo all'ora sopra. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, possiamo tenerla questa canzone sotto, vero sì? Ricoruggeri e poi Fiorella Mannoia, chissà, non immaginavano che potesse esistere poi un libro così bello, come questo che ho per le mani, che la signora Irma Spagnoletti Pons, che salutiamo con relativo applausone, e sua figlia Angelica, hanno deciso... Angelica, a un certo punto l'idea del libro è venuta fuori, noi possiamo darci del tu, vero? Sì, possiamo. Tu sei figlia di un amore bellissimo, bellissimo. Sempre insieme loro, sempre insieme. Bao bao micio micio proprio. Bao bao... Bao bao micio micio, ma tu, avendo per le mani queste lettere, cos'hai? Insomma, al netto del non ho tempo mamma, perché è normale, è un pezzo di vita di famiglia, però a un certo punto ti sei accorta di avere qualcosa di molto pesante e splendido per le mani? Eh sì, sì, mio malgrado sì, e abbiamo iniziato a rileggerle, ed è lì che hanno preso il volo. Allora, mio papà ci ha lasciati un po' prima del Covid. Loro erano veramente sempre insieme, unitissimi, hanno fatto tutto insieme e condividevano tanto, comunicavano moltissimo e credo che sia questa in fondo l'essenza, perché se tieni qualcosa nascosto, separato, e questa crea divisione. Certo. Invece se condividi e costruisci giorno per giorno un sossolino dopo l'altro. Assolutamente. È come costruire un mosaico. Provate ad immaginare queste lettere come un mosaico perfetto, meraviglioso, di una vita a due, dove, signora, da parte sua emerge, lei è molisana. Dico bene? Me lo fa fare il gesto? Siete come la roccia voi. Molisana, molisana. Molisana doc. Molisana doc. Molisana doc. E lei che arriva a conoscere questo ragazzo che invece era? Piemontese, Piemontese. Piemontese. Perché la signora è chiara, chiara. Piemontese, Piemontese. Tutto, tutto, quando, quando. Sia chiaro. Questo ragazzo, Piemontese, Piemontese, che lei conosce... Dovete leggere questo libro, se no vi facciamo tutta la storia. Il ragazzo subisce un incidente. La signora, la signorina, lavora in un ufficio dove bisogna andare a verificare i danni subiti da questo ragazzo, e scocca subito questa scintilla d'amore, sì o no? Ma dovessi proprio no. Non è che sia scoccata la scintilla d'amore. Io ho saputo di questa disgrazia. Lui si danneggiò gravemente la schiena, poi guarì. Fra l'altro, devo spiegare questo. Quando mi sono trasferita a Villarperosa, dove poi ho lavorato da assistente sociale, nell'ottobre del 62, all'arrivo di Villarperosa lavoravano 6200 dipendenti. L'Avvocato Agnelli, in una maniera incredibile, si dava da fare per aiutare queste persone, la fabbrica, il lavoro. E io ho seguito, perché sono arrivata a Villarperosa come assistente sociale, mi avevano detto che dovevo alloggiare nell'albergo della RIV, che dovevo lasciare libero nel periodo delle ferie perché andava la Juventus. Arrivava a Juventus a fare l'allenamento, certo. Quindi, io veramente quando sono finita a Villarperosa, all'inizio quando mi hanno detto l'assumiamo da Torino a Villarperosa. E dove? Non sapevo neanche dove fosse. Però, però, da Torino a Villarperosa, da Villarperosa, ad andare a visitare questo giovane... Ecco, è successo questo. Io sono arrivata a Villarperosa ad ottobre. Sì. Al 16 di agosto del 63, quindi io 62, 63 questo giovane ha fatto un volo di 9 metri. Lavorava già come impiegato alla RIV, suo papà lavorava alla RIV anche come capo, la mamma faceva l'operaia. E siccome si è distanti un po' dal paese, dalla RIV, tutto a piedi, non c'erano le automobili come adesso. Sì. Quindi, il mio suocero, il papà di questo ragazzo, si dava da fare, avevano costruito la casa. Io sono andata nel 62. Avevano appena costruito la casa delle cinquante. Signora, se io non la fermo, lei adesso mi dice anche di quanti mattoni fosse la casa. Eh, perché? Cosa è successo? No, no, no. Che si davano da fare. Perché avevano anche i terreni, lavoravano, eccetera. C'era la mucca, le coniglie, le galline. Quindi si davano da fare per poter raccogliere il fieno. E infatti suo marito ha un incidente. Quindi mio marito ha un incidente, proprio a 16 di agosto, fa un volo di 9 metri. Sì. Perché era andato a prendere del fieno per suo papà. E ha fatto... Benedetto fieno, signori. Il ragazzo fa un volo di 9 metri. Si danneggia la schiena, ma la schiena poi tornerà in ordine. La sua fortuna, tra due virgolette, che adesso è un cortile grande, eccetera. Non era ancora lastricato. C'era la terra proprio normale. Signora, lei quanti anni ha? Bruta, bruta, mi la dica. Bruta, bruta, tondo, tondo. Quello, quello. Oggi la signora ci ha messo il raddoppio a tutto. Lei quanti anni ha, signora Irma? Io ne ho 84 e li ho compiuti agosto. E va bene che è la storia della sua vita. Ma per questo ho detto, se non la fermo, mi dice anche di quanti mattoni fosse fatta la cascina. Si ricorda tutto. E se non è subito... Forse non è subito colpo di fulmine. Perché se non ci fosse stata la terra, a quest'ora lui sarebbe morto. Certo. Invece con questo volo di 9 metri si è spaccata la schiena. E insomma... A quel tempo la ditta aveva una mutua privata a Malfe. Signora, se lei adesso mi va di rive di Malfe. Io mi perdo. Scusa. Non lo voglio fermare. Non lo voglio fermare. Io sì. Però voglio arrivare... Io sì, dice Angelica. L'hanno accudito. L'hanno aiutato. Ma l'hanno aiutato, signora. Dio voglia. Perché se ti fai male, ti fai male sul lavoro, vai aiutato. E questa la prendo come parentesi. E la sottolineo ulteriormente. Però io voglio tornare alle lettere d'amore. Perché c'è un attimo... Con loro si è creata poi un rapporto di amicizia anche con la famiglia. Sì. Ho seguito spesso anche la mamma che aveva ogni tanto dei problemi di salute. E poi, alla fine dell'anno 64, io mi sono trasferita da Villarperosa a San Salvo, che si trova tra Termoli e Vasto. Quindi è tornata a casa, diciamo così. Certo. Perché avevano appena costruita la vetreria più grande di Europa. 2.000 dipendenti e distava una trentina di chilometri dal mio paese. Però distava troppi... Distava un'esagerazione di chilometri da Giulio. E quello che salta fuori... La distanza ha trasformato questa amicizia grande che c'era tra noi. Proprio attraverso queste lettere ce le siamo comunicate. Ha trasformato questa amicizia in un rapporto più profondo, in amore. Signori, e per una volta dobbiamo sventire Modugno. Perché la lontananza ha prodotto questo. Oh, signora Irma, lei mi deve perdonare. Io ho dei tempi per i quali la devo rincorrere. Lei, giustamente, invece, ci sta regalando la sua vita, ci sta raccontando cose... Guardi, e credo questo anche a casa, anche molto importanti da un punto di vista del come eravamo, dell'Italia che era. Voi arrivate a sposarvi, a giudicare da questo libro, sapendo esattamente cosa andavate a fare. E mi faccia quella faccia furbetta, perché lei glielo dice proprio... A me tu piaci anche con i tuoi capelli dritti. Sì, mi aveva anche dritti, è vero. Ma, insomma, vi siete scelti. Ecco, quello che viene fuori da queste lettere è la scelta di uno verso l'altro. È tanto. Vi siete amati profondamente. Qual era la qualità più bella di suo marito? Era una persona, prima di tutto, onesta, rispettosa, cristiano, moralmente a posto, amante della famiglia, amante proprio dei genitori. Lui proprio viveva proprio perché credeva nella vita e voleva in tutti i modi rispettare quello che la vita ci richiede. Gli impegni, i doveri, non è che trovasse difficile, ci si doveva da fare perché potessimo risolvere poi insieme i problemi che la stessa vita ci presenta tutti i giorni. Lei che è arrivata come la ragazza del sud, guardata esattamente come il suo marito del nord, sarebbe stato guardato probabilmente a casa sua in Molise. Insomma sei, è paradossale, ma sei di un'altra parte di questo paese. Questa ragazza poi è diventata la luce dei suoi suoceri, è diventata l'angelo custode di tutta quella famiglia. Voi vi siete sposati a Chieti, avete fatto il viaggio di nozze che è stato risalire l'Italia e andare in Piemonte. Sì. È stato bello il viaggio? Molto. Ma voi lettere ve ne siete scritti più dopo? No, perché ormai non c'era più bisogno di scrivere le lettere, eravamo insieme quindi quello che ci passava per la testa ce lo dicevamo. Quello che è stato sempre bello, che io veramente anche lui mi apprezzavo, che non abbiamo mai nascosto niente all'uno e all'altro. Tutto quello che avevamo in testa, che avevamo ancora, ce lo siamo sempre detto perché ognuno potesse aiutare l'altro se c'erano delle difficoltà e ognuno potesse far gioire l'altro se c'erano delle cose belle, l'amore e tutto il resto. Come capisco suo marito che si è innamorato di lei, eh? Lo capisco perfettamente. Cara signorina Irma, puoi mettere quattro pagine, quattro pagine, dice mando il Whatsapp. Cara signorina Irma, io non sono affatto un rebus. Il mio comportamento nei tuoi riguardi forse sì è stato un rebus e non tanto per te quanto per il sottoscritto, credo. Infatti che non mi sei indifferente l'hai capito da un pezzo. Ma visto e considerato che non sono un rebus, credo dover riconoscere che per quanto interessa i nostri rapporti affettivi ho dimostrato di essere un inesperto, un indeciso, un onesto, che pensa troppo, un mezzo fallito. Amore, ma come si faceva a non cadere innamorati di un uomo così? C'è Angelica che sollucchera, le abbiamo messo dei pesi nelle tasche per evitare che salisse su nello studio. Conservare questa memoria che significa? Innanzitutto tirarla fuori è stato salutare perché le emozioni vanno vissute ed espresse, se no ci si ammala. Questo è anche il mio lavoro, ma il mio primo prossimo alla fine è la persona con cui la condivido. Questa è Angelica in una foto che ci ha permesso di mostrare. Bene. E questo l'ha aiutata a superare comunque la partenza per il cielo del mio papà, sicuramente. Per noi è tanta roba tutto questo. Certo. Perché ci riconosciamo, ci si riconosce la famiglia, il paese. Poi sono storie di ampio respiro, non stiamo nel nostro piccolo nucleo. Ma giustissimo quello che dice Angelica, cioè questa storia, credete, appartiene a tutti. Nell'istante in cui tu inizi a leggere, guardi signora, per un attimo noi abbiamo detto ma possiamo, nonostante fosse già un libro, perché entri nella vostra vita, però poi dopo uno si sente rappresentato o trova il modo anche di applicare queste lettere. Ma se fosse stata tutta conversazione telefonica... Non sarebbe successo niente. L'ha detto lei, eh. L'ha detto lei. E le compagnie telefoniche non ce ne vogliano. Non sarebbe successo niente, vero? Non sarebbe. Quando lei, quando lei fra cent'anni a partire da oggi, in un altrove, rivedrà il suo Giulio che le viene incontro, che gli dice? Ah, che bello rivederti, meno male. Sono proprio contenta. Signori, ci fanno compagnia certe lettere d'amore. Irma Spagnoletti e Giulio Pons, perché giustamente c'è anche Giulio tra gli autori di questo libro, c'è Angelica. E allora io voglio fare un salto e onorare con queste immagini che ha messo insieme la mia, la nostra Laura Bernardini, un'altra donna che ha amato tanto, è morta 50 anni fa, era il 26 settembre del 1973, e noi continuiamo a portarla nel cuore. Perché? Perché lei se lo merita. È Anna Magnani. Ma che luna, ma che luna c'è stasera Vedermon, chi s'affaccia a stare indietro Da San Pietro all'arbre cupole e laggiù Fino al mare, più lontano sempre più Che mi importa se quassù non c'è nessuno Che mi importa se non trovo da scagliare Mostri fiori li regalo a Roma bella Che li porti ad un sordato In sentinella E l'ultima foto che voglio farvi vedere è una foto che sta sempre nel mio camerino Questa è Anna Magnani con suo figlio Luca Perché? Perché Luca è la grande memoria di questa splendida, irripetibile attrice e mamma Ed è a lui che noi mandiamo un grande bacio in questa giornata Ilma Spagnoletti e Angelica Pons ci salutano Le ringraziamo, fanno in tempo a prendere il treno E portano via queste lettere d'amore dopo che ce le hanno regalate Grazie signora Io ringrazio voi perché veramente mi avete accolta Avete anche apprezzato questo E senza altro anche mio Giulio vi sarà molto grato E via vicino Che dire? Non so se la signora partirà Forse la tengo con me Stretta al cuore Grazie a tutti, questa è l'ora solare Grazie Adesso possiamo piangere Grazie Aiuto Grazie